Qual è l'emergenza di queste ore? In queste ore dobbiamo fare i conti con un problema che ha riguardato un tipo di vaccino AstraZeneca, che era il vaccino che abbiamo somministrato in modo particolare alle forze dell'ordine, al mondo e alla scuola. Prima raccomandazione, evitiamo psicosi, evitiamo situazioni di angoscia perché non c'è nessun motivo per essere angosciati. Si è determinato un problema di cui dobbiamo parlare con grande chiarezza e presentando la realtà per quella che è. Ci sono state alcune ricadute che vanno verificate in persone che hanno avuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Tenete conto che sono milioni in Europa, la grandissima parte dei cittadini inglesi ha utilizzato il vaccino AstraZeneca. Su milioni di vaccinati con questo vaccino noi abbiamo avuto poche decine di casi, anche gravi. La cosa che bisogna accertare per evitare di diffondere allarmismi inutili è che le patologie che si sono determinate fossero davvero collegate con il vaccino. Spesso capita che ci siano anche decessi, ma in soggetti che avevano altre patologie o patologie sopraggiunte dopo il vaccino, ma non legate direttamente alla vaccinazione. Allora è stata sospesa anche in Campania la somministrazione di una partita di vaccino che è quella in relazione alla quale si è determinato un problema per alcuni cittadini. Abbiamo sospeso quella somministrazione. Voi sapete che arrivano questi vaccini su dei vassoi, dei platò che contengono alcune centinaia di dosi che poi vanno messe nelle fiale. Per motivi prudenziali, ovviamente, attendiamo alcuni giorni la valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Era un atto doveroso, ma per l'amor di Dio evitiamo un clima di angoscia, perché, ripeto, milioni di cittadini si sono vaccinati e non è successo assolutamente niente. Quindi stiamo tranquilli, verifichiamo quello che è successo. Ovviamente abbiamo il dovere noi di dare assoluta tranquillità e sicurezza ai nostri concittadini.